La Lugaglianese, Napoli Throwdown, quad numero 3, categoria Master più 40, CrossFit BMH. Piraciere da 20, bumper da 5, bumper da 10, bumper da 10, bumper da 5, arbitro, tempo. La Lugaglianese, Napoli, La Lugaglia, prana 5, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respiro, vai. Vai vai, grande. Respiro, vai, grande. Respiro, vai. Respiro, vai. Respiro, vai. Respiro, vai. Respiro, vai. Vai, vai. Respiro, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai.